Ultima spiaggia per il Città di Brindisi per accedere all'obiettivo play-off e potrà farlo solo vincendo. Occorrerà lasciarsi alle spalle la delusione per l'ultima sconfitta contro il Caserta e concentrarsi per fare bene per giocarsi a dovere l'ultima chance. E alla bisogna per l'appuntamento decisivo di questa stagione il mister Enzo Maiuri ha recuperato da se gli importanti per allestire al meglio la sua compagine. Si tratta dell'attaccante chienese fuori dalla Rosa dal 7 aprile e dell'esterno ciano che nonostante un recente lutto in famiglia ha continuato ad allenarsi in vista della gara. L'unico assente per infortunio potrebbe essere Buono al di là di Masullo squalificato. Proseguono intanto gli allenamenti per rodare al meglio tutti gli schemi con la partita e l'amichevole infrasettimanale con la formazione Juniors. La posta in gioco è alta, i biancazzurri si preparano a giocarsi al meglio una gara che vale tutto il lavoro di una stagione.